Ciao ragazzi bentornati o benvenuti in questo nuovo video Perdonate la voce un pochettino nasale ma ho appena scoperto una roba e devo mostrarvela assolutamente L'avrete sicuramente già letto dal titolo e visto dalla copertina di questo video Oggi vi mostro come poter sfruttare YouTube Picture in Picture sui vostri iPhone con a bordo iOS 15 Prima di andare avanti però permettetevi di presentarvi questo iPhone È un iPhone 12 offerto dai ragazzi di ricondizionato ok Uno shop che vende iPhone ricondizionati a prezzi veramente accessibili Io ho conosciuto diversi ragazzi e posso dirvi che sono delle persone super super competenti Ma oltre a questo per quale motivo dovrei consigliarvi il loro store? Beh perché la spedizione avviene in massimo 48 ore, c'è un anno di garanzia su tutti i prodotti I prezzi come detto sono molto interessanti e soprattutto c'è la possibilità di parlare direttamente con loro Quindi di richiedere assistenza diretta via WhatsApp direttamente dal sito Quindi è un servizio che vi straconsiglio Ve lo ripeto ho conosciuto i ragazzi sono veramente in gamba Quindi se vi va passate nel link che trovate qua sotto in descrizione E date uno sguardo agli smartphone che attualmente sono disponibili sul loro store Eh sì perché ovviamente non tutti i telefoni possono essere sempre disponibili In più se siete interessati ad acquistare un iPhone ricondizionato che fa bene all'ambiente E bene al vostro portafogli perché vi permette di risparmiare un pochettino Potete usare il coupon LUCACROCCO96 per avere un piccolo sconto in fase di acquisto E anche diritto ad un accessorio random in omaggio Che può essere una cover o un vedo temperato Quindi io direi di non farvi scappare questa occasione Ma adesso andiamo avanti con il video Unico requisito è quello di aver aggiornato i vostri iPhone ad iOS 15 Se avete fatto l'aggiornamento potrete sfruttare anche voi YouTube picture in picture Per i più ignoranti, per i non addetti ai lavori cosa significa picture in picture Ovvero potete sfruttare YouTube da browser, quindi da Safari Anche fuori dal browser Quindi potete far partire un video o una canzone Uscire da YouTube resterà in background E voi potrete fare altre cose, magari andare su Instagram Oppure, non so, scorrere tra il feed di notizie Insomma fate quello che volete Ma in background continuerà a venire riprodotto O il video o la canzone, insomma, che avete fatto partire su YouTube Adesso vi mostro come fare Ok, allora non perdiamo troppo tempo E lo vi spiego al volo Cosa vuol dire utilizzare YouTube picture in picture Significa semplicemente poter mandare in play un video su YouTube Una canzone o quel che sia E continuare a riprodurla anche fuori da YouTube Ecco, come vedete l'audio si è interrotto Quindi attualmente non è possibile farlo O meglio, si può fare ma con un paio di accortezze Prima di tutto, come già detto Dovrete avere aggiornato i vostri iPhone ad iOS 15 Dopodiché andate sull'App Store e scaricate questa applicazione Tranquilli, è gratuita, non ci sono annunci Niente di niente, funziona veramente alla grande Io ve la straconsiglio Quindi installatela gratuitamente sui vostri smartphone Dopodiché, ora attenzione Andate in impostazioni Scendete in basso fino a trovare la voce inerente a Safari Scendete ancora fino a trovare la voce inerente alle estensioni Troverete questa estensione Cliccate e abilitatela Ok, non è ancora finita Occhio Torniamo ora sul browser Se metto play Vedete, il video parte Esco E il video ovviamente si blocca Ora vi faccio vedere come risolvere Aprite di nuovo il browser Cliccate qua dove ci sono le due A E poi cliccate su Pipifier E in automatico il video verrà messo in Picture in Picture Ora cosa fare Cliccate play E uscite da YouTube E voilà Il gioco è fatto Il video continuerà ad andare in riproduzione Anche mentre farete altro Magari mentre siete su Instagram E che ci vuole Ecco qua Funziona alla grande Ma capisco che questo video potrebbe dar fastidio Messo lì Mentre si utilizza l'iPhone Non c'è problema Prendete il video e sbattetelo fuori dallo schermo Così potete nasconderlo L'audio vi faccio sentire che continua ad essere riprodotto E voi nel frattempo potrete fare tutto ciò che vorrete Mentre vi ascoltate una bella canzone in sottofondo Facendo così ritirate il video in mezzo Facendo così lo ingrandite Facendo così lo rimpiccolite Per chiudere vi basta semplicemente cliccare sulla X qui in alto Ed il gioco è fatto Bene ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto Ovviamente fatemelo sapere con un bel commento e un mi piace Grazie anche ai ragazzi di Ricodizionato Ok Per avermi fornito questo iPhone 12 Ovviamente vi invito a passare sul loro sito Per vedere tutti i prodotti che hanno disponibili E ragazzi grazie davvero perché mi avete veramente salvato le chiappe In quanto il mio iPhone 13 Pro ha fatto veramente una brutta fine Ma se volete approfondire trovate il link del video qua su in alto In descrizione trovate anche il link per scaricare l'applicazione Che vi permette di sfruttare questa funzione Io sono Luca Crocco E noi ci vediamo sempre qui al più presto sul mio canale YouTube Ciao